Questo video riguarda i migliori tre bilance da cucina digitale. Il vincitore della qualità è l'Eono Bilancia da Cucina. Una bilancia davvero versatile, in grado di pesare la maggior parte degli ingredienti e oggetti di quasi ogni dimensione. Il pulsante Mode T permette di misurare ingredienti secchi e il volume dei liquidi, mentre il pulsante Unit T permette di scegliere tra quattro unità di misura. Realizzata con i sensori più all'avanguardia per la massima precisione. Misura fino a 5 kg, 11 libbre con una precisione di 1 g, 0,1 once. Peso minimo, 5 g. È dotata di un display luminoso LCD da 2 minuti, facile da leggere anche con poca luce. La bilancia permette di misurare la tara e o i primi ingredienti a parte. Basta premere il pulsante ZT per resettare la pesatura, poi aggiungere gli ingredienti. In acciaio inossidabile SUS304 con rivestimento resistente alle impronte. Usa le diverse modalità per misurare peso, acqua e latte e dosare tutto alla perfezione. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il E-Texity bilancia cucina. E-Texity bilancia alimenti dotata di sensori ad alta precisione con capacità 5 kg, 11 libbre, accuratezza 1 g, 0,1 once. Display retroilluminato per letture chiare di 4 unità KG GL B-OZ. Realizzato in acciaio inossidabile di facile pulizia per una durata d'uso più lunga. Ciotola rimovibile per usi versatili. Molto ideale per mescolare più ingredienti con precisione. Caratterizzata da funzione Tara e da AutoZero, compatibile anche con gli altri contenitori. Si può misurare anche in tazza, piatto o ciotola di diversi dimensioni con dati affidabili. Sensore temperatura dell'ambiente e timer cucina per eseguire i compiti diversi senza caos. Autospegnimento entro due minuti. Indicatore batteria scarica. Due batterie AA incluse. Il vincitore del premio è il ProBreeze bilancia da cucina. La bilancia digitale per alimenti ProBreeze consente di misurare con precisione solidi o liquidi in G, ML, LB OZ o FL OZ. Con le nostre bilance da cucina digitale professionale, puoi misurare con una precisione di 1 g o 0,1 once di un peso fino a 5 kg o 11 libbre. Queste bilance da cucina sono super semplici da usare. Con il display a LED di facile comprensione e il pannello di controllo intuitivo, non perdere tempo a iniziare con queste bilance da cucina. Queste bilancia da cucina di precisione ha molteplici funzioni e caratteristiche. Non solo bilance per alimenti, hanno anche un avviso di sovraccarico. La comoda funzione Tara consente di misurare facilmente più ingredienti in un unico contenitore. La nostra bilancia di precisione da cucina è sono realizzate con una superficie in acciaio inossidabile per una facile pulizia e manutenzione. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.